Uno, due, prima, b Uno, due, prima Educarte in Identità Europea è un progetto che coinvolge nove partner in cinque paesi europei, Belgio, Italia, Portogallo, Spagna e Ungheria, nell'arco di 24 mesi. La mission del progetto è promuovere l'identità europea e il dialogo interculturale nelle scuole attraverso l'arte, per rafforzare la creatività dei minori, sviluppare la loro competenza digitale ed il loro empowerment. Gli istituti coinvolti nel territorio ternano sono stati la scuola secondaria di primo grado Leonardo da Vinci, l'Istituto Leonino Scuola Cattolica Paritaria e la scuola primaria Renato Donatelli. Nel corso dell'anno è stata esplorata l'identità europea attraverso quattro nuclei tematici legati al territorio ternano, San Valentino, i protomarteri francescani, Maria Eletta di Gesù, il Grand Tour. Nei laboratori tenuti durante l'orario scolastico, gli studenti hanno interpretato i contenuti dei nuclei tematici attraverso alcuni linguaggi dell'arte. La pittura creativa, la street art, il teatro e la produzione video. Nel corso dei laboratori è stata utilizzata una metodologia partecipativa, basata sull'espressione artistica e sulla creatività. Silenzio, motore, partito, 3,1, quarta, azione! I ragazzi e le ragazze hanno lavorato con i colori, le immagini, il corpo e la voce. Hanno unito le loro individualità in un lavoro comune ed hanno sperimentato nuovi modi di esprimersi.